salve a tutti ragazzi ben ritrovati sul canale io sono dave e da tanto tempo che non mi faccio più una partitina slater io quindi direi perché non condividere con voi un momento di divertimento e sicuramente di qualche bestemmia perché questo gioco mannaccio fa bestemmiare davvero tanto non ci gioco da molto speriamo di non fare troppe cavolate e incominciamo subito 1 2 3 play a mannaccio quanto lag ok abbiamo già raggiunto una discreta no una discreta dimensione e quindi direi che possio bastardo bastardo ok come on allora andiamo verso il centro che è sempre la zona un pochettino più calda dove bene o male si riescono a fare punti facili almeno inizialmente guardate questo qua che bel salsiccio tu che vuoi tu cosa vuoi ok lasciatevi qualcosina anche a me scusi lei non è che magari te muori scusi lei non è che magari si vuole schiantare oh madonna ancora un po' mi schiantavo io oh bravo no fuck ci è mancato un pelo no lasciatemi qualcosa anche a me ok abbiamo trovato uno bello tanto grosso mannaccio quanto è grosso questo dai che muore dai che muore pensa positivo pensa positivo no no fuck con tutti quelli che aveva proprio me è andato a scegliere che sono piccolo e inutile sono pure insipido uh 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 non posso sprintare ah lasciatemi le briciole grazie grazie troppo gentile anche questo buono buono oh no non è morto oh uh 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 qua muoio qua ci muoio uh ua 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 tutto mio tutto mio no merda che culo no ok no fuck stavo dicendo ok non esageriamo no no non ci credo ma non ci credo guarda cosa ha fatto quello oh my god oh oh quanto ben di dio no no dai ero avanti io porca troia li difendo con i denti le mie palline di luce me le sono conquistate ok questo che fa si schianta no allora vediamo un po' che cosa possiamo fare uh uh bene 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 no allora il segreto per fare tanti punti in questo gioco è stare fermi sulla sponda del fiume o aspettare che arrivi il cadavere del tuo nemico ho rischiato oh 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 wow 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 uh molto bene togliti mio mio tutto mio tutto mio allora cerchiamo adesso di non fare subito una cazzata e di durare un pochettino di più vediamo se riesco ah volevi fottermi eh bastardo no aiuto ok via piccolino piccolino non mi romper la minchia ok questo qua è grosso però mi sa che ci vuole un po' ingulare quindi è meglio andare un pochettino alla larga su nessuno si vuole schiantare eccoli bravissimo più che bene guarda 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 ma cazzo cazzo grandissimo no 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 muori potrei morire anche tu però eh già che c'eri andiamo qua andiamo qua ho fatto fuori anche l'altro uh 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 via 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 come on come on come on si tutti i miei tutti i miei uh 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 mannaggia quanto l'aga ok direi che abbiamo fatto fuori qualche serpentello eh questo qua so già dove vuole andare a parare eccolo lì te pistolone e tu ah non vuoi morire vabbè passiamoci il tempo ok siamo a 4800 punti dai dobbiamo cercare di salire dobbiamo salire almeno nella top 10 allora questo qui jack questo jack secondo me è un po' stufo di vivere no andiamo a passeggio tutti insieme innamoratamente è mio tutto mio tutto abbiamo fatto un frontale sono morto solo io eh lui ce l'aveva più grosso si vede e poi dicono che le dimensioni non contano sono stato io sono stato io tutto mio tutto mio mio no 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 ma perché perché le volevo io quelle palline oh grazie gentilissimo uh uh muori anche tu si ho fatto fuori anche lui ah gira ok 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 questa volta ci siamo riusciti non abbiamo preso tanti morto? no non abbiamo preso tantissimo ma va bene così e mio anche lui ma vieni fuck si tu che vuoi snacks uh 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 mio tutti i miei wow che strage peccato che sono arrivati tutti e due contemporaneamente no mamma che pelo no no ma dai ma dai uh 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 banzai uh no mie 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 palline mie 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 tu muori per favore no non muore ok uh uh muore lui però in compenso molto bene no sterza che culo yuhu ok allora vediamo un po' cosa possiamo fare cosa possiamo fare andiamo vicino a questo qui va che secondo me a vita breve no te volevi fottermi eh uh uh eccolo qui ho detto che aveva vita breve gira 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 chi è che muore con questo marasma di lucine no guarda che bastardo bastardo meno meno guarda che si chiama meno cazzo se ti segno a vita uh 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 no muori mio tutto mio e muori anche tu oh no ok non ce la siamo cavati per niente male ok abbiamo approfittato la situazione adesso con calma Dave con molta calma aspetta che muoia qualcun altro no io ah bestia che dolore ok qui ce n'è uno bello grosso stalkerizziamocelo e aspettiamo la sua fine ai 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 no lasciami in pace ok vediamo chi è che ha voglia di morire che bastardo ci hai provato eh con tutta sta gente nessuno che ha voglia di morire ho rischiato te per così poco vi mettete a correre uh 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 mio 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 tutto io tutto io no dovevo chiuderlo questo vabbè bravissimo ottima scelta micchia se ce l'ho se ho rischiato gira 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 dobbiamo andare via di qua allora vediamo un po' cosa si può fare questo qua mi sa che vuole rompere la micchia vabbè dai andiamoci lui giusto per fare uno spuntino nooo nooo bestegne bestegno ma dai ma come ho fatto non ci credo ahi ahi ci ha fottuto tutti quanti nooo che culo si è schiantato tu muori grazie e io mi pappo tutto tutto mio tutto mio tutto mio via via corri 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 oh oh ah uh che culo no 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 devo scappare uh mannaggia che roba via via da qua via abbiamo preso abbastanza via 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 e morite no ok oh 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 no era 6.000 ma no ma no che orgia che roba bravissimo anche tu hai fatto la cosa più giusta che potevi fare ok dai siamo a 5.000 incominciamo ad averlo un pochettino grosso eh qui abbiamo un fratellino è stesso colore vieni qui piccolino che papà ha fame sì ok ok beh dai potresti anche suicidarti tanto non è che hai tante vie di fuga eh ciao anche a te eh volevi fregarmi eh ok uh lì c'è morto qualcuno dai che ci prendiamo questo no togliti no 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 uh quante belle lucine vieni qua lucina mia eh ah volevi prendermi le mie lucine mia 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 mannaccia mannaccia allora tu eltoni tu cos'è eltoni 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 se tu morissi sarebbe cosa buona eltoni questo è mio è mio mannaccia come lagga oh impressionante non si capisce niente no ma ho ucciso eltoni mi ha ucciso no anche questa no e va bene dai si vede ragazzi che sono davvero tanto tanto arrugginito perché come punteggio mi sembra che non abbiamo non siamo mai andati oltre la semina di punteggio va bene va bene dai è stata un mezzo di sfatto ma mi sono divertito lo stesso per questo episodio è tutto ragazzi vi ringrazio per la visione come sempre lasciate un like se vi è piaciuto e al prossimo video ciao ciao come on se il video ti è piaciuto e ti senti un po' più paciuto non lasciare il tuo compito incompiuto non fare il cornuto un like è doverosamente dovuto yeah